Chi è quello che Hagrid porta in braccio? Neville, chi è? Harry Potter! È morto! No! No! Silenzio! Stupida ragazza. Harry Potter è morto. Da oggi in poi. Vorrete la vostra fiducia in me. Harry Potter è morto! E adesso è il momento di dichiararvi. Venite avanti e unitevi a noi. Draco. 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 Vieni. Molto bravo. Draco. Molto bravo. Ah, ecco, devo dire che speravo di meglio. E tu chi saresti, giovanotto? Neville Pachock. Bene, Neville. Sono certo che troveremo un posto per te nei nostri ranghi. Vorrei dire una cosa. Bene, Neville. Sono certo che saremo tutti affascinati nel sentire quello che hai da dire. Non importa che Harry sia morto. Lascia stare, Neville. La gente muore tutti i giorni. Amici. Familiari. Sì. Abbiamo perso Harry stanotte. Ma lui è ancora con noi. Qui dentro. È così freddo. E Remus.